Mi piace pensare di essere un imprenditore di quelli che ha affrontato tutte le tematiche tipiche delle nostre PMI, quindi il passaggio generazionale, la crescita dimensionale. Nella nostra azienda siamo rimasti io e mio fratello Alessandro che è il fratello più piccolo e abbiamo fatto un percorso di crescita attraverso inserimenti di fondi di private equity che ci hanno permesso di crescere. Pensate che quando sono diventato imprenditore o meglio sono entrati in azienda, l'azienda era un'azienda con 15 persone e circa 2 milioni di fatturato, nel 2023 abbiamo chiuso con oltre 800 persone e quasi 130 milioni di fatturato. Sono presidente della piccola industria di Torino dal 2022 e il mandato che mi è stato dato, che è stato dato comunque alla squadra di presidenza piccola industria è quella di aiutare le nostre PMI nella transizione dimensionale. Oggi si parla tanto di PMI troppo piccole, ecco il nostro obiettivo è quello di da un lato aiutarle a crescere, dall'altra di far capire cosa vuol dire crescere, perché spesso si confonde la crescita solo con la crescita di fatturato. Il nostro obiettivo invece è di far crescere proprio culturalmente la squadra imprenditoriale, il team imprenditoriale, la famiglia imprenditoriale e ce la siamo immaginata su quattro tematiche principali. La prima il credito a finanza sotto la vicepresidenza di Lelemusso, la seconda sotto quello che oggi si chiama transizione sostenibile, quindi tutti i temi della sostenibilità sotto il vicepresidente Marco Piccolo, la terza transizione digitale, quindi tutti i temi legati alla trasformazione digitale della nostra azienda sotto il vicepresidente Lucas Burlati. L'ultima e non meno importante che racchiude due elementi che sono l'internazionalizzazione e la cultura di impresa sotto la vicepresidente Cristina Tomiatti. Tutti insieme stiamo quindi lavorando per mettere a fattor comune tematiche per aiutare le PMI a crescere e tutto ciò l'abbiamo messo in una mappa. Abbiamo depositato il marchio e abbiamo oggi sul sito dell'Unione Industriale una mappa che rappresenta un pochettino una mappa della metropolitana se vogliamo in cui ogni stazione rappresenta un progetto, una tematica, un argomento che nel mio mandato è stato sviluppato dove si possono trovare dei contenuti multimediali delle interviste, delle schede e dove ogni imprenditore può eventualmente raccogliere informazioni su quella tematica e successivamente svilupparle per conto proprio. Come imprenditore credo che Torino Capitale Cultura d'Impresa sia il modo per comunicare come questa città abbia negli anni affrontato quello che sono state le tematiche della crisi industriale. Quindi ritengo che raccontare all'interno dell'anno Torino Capitale Cultura d'Impresa questo cambiamento sia fondamentale per far capire come anche Torino non sia solo a metalmeccanica ma sia anche tanti altri settori e sia soprattutto una città da visitare.